Se siete architetti o non lo siete o comunque siete interessati all'architettura contemporanea dovete assolutamente andare a Londra. Non è la prima volta che ve ne parlo di questa città pazzesca per l'architettura ma ci sono tornato recentemente e c'è sempre qualcosa di nuovo da vedere. È pazzesco quanto costruiscono e anche costruiscono soprattutto edifici o architetture importanti, grattacieli, molto interessanti con anche una qualità architettonica molto non sono edifici economici per parlare ma soprattutto fatti anche dalle più importanti firme internazionali. Non che già soltanto a Londra magari troviamo Norman Foster, Richard Roger o lo studio di Zadid che sono partiti da Londra con il loro studio così come tanti altri ma poi Londra ha anche attirato tutti gli altri studi anche internazionali dall'estero che hanno quasi tutti anche una sede a Londra e quindi poi lavorano lì e si hanno delle architetture poi molto interessanti e quindi per chi studia l'architettura o semplicemente interessato all'architettura Londra è una città incredibile ed assolutamente da visitare ed è anche un po' difficile fare un riassunto di tutto quello che si può vedere infatti oggi sarà un po' una carrellata di cose che mi sono capitate di vedere e sono soprattutto fatte recentemente negli ultimi 4, 5, 6 anni massimo. Per non parlare appunto del Shard che è l'edificio forse più importante, iconico e diventato per l'architettura contemporanea realizzato da Renzo Piano che è l'edificio più alto d'Europa e così come tanti altri edifici molto importanti infatti avevo già fatto, magari vi lascio il link nelle descrizioni, un altro episodio che parlavo delle 10 architetture di Londra assolutamente da vedere. Forse potrebbe anche essere di nuovo rivisto quell'episodio di cui avevo già parlato perché appunto ci sono delle altre nuove interessanti architetture e anche 10 è veramente riduttivo perché sono veramente tante tante l'architettura interessanti. Ma appunto come vi dicevo oggi giusto una carrellata di quelle che mi sono capitate così di vedere che avevo visto magari gli anni passati in costruzione che adesso sono già concluse e già si vedono i nuovi cantieri quindi poi probabilmente fra pochi anni già si avrà un'altra immagine diversa ancora di Londra. Soprattutto poi c'è la city che è già veramente densa e ci sono già nuovi grattacieli e sono previsti ancora altri e quindi cambierà nuovamente lo skyline di questa parte della città che è ormai diventata appunto la parte anche più interessante, più importante da vedere ma come ho detto tutta Londra è comunque interessante. E proprio partendo dalla city mi viene in mente il 22 Bishop Gates che sarebbe la strada dove si trova il grattacielo che è un nuovo grattacielo inaugurato insomma pochi anni fa, anzi ancora adesso io sono entrato perché si può visitare, si può andare all'ultimo piano dove c'è un punto panoramico pazzesco ed è anche gratuito ma si vede che ancora è un po' mezzo vuoto, forse ancora da completare giusto le ultime cose ed è un edificio, un grattacielo ovviamente di 278 metri, di 62 piani per cui non stiamo parlando di cosette piccoline no? Ed è un edificio insomma interessante, magari architettonicamente non è particolarmente complesso ma una geometria che comunque a me personalmente è piaciuto ed è realizzato dallo studio con Pedersen Fox ed è comunque il secondo edificio più alto d'Europa o comunque di Londra appunto preceduto dallo shard di Renzo Piano. E appunto parlando di Renzo Piano io avevo letto tempo fa di un progetto che si poteva fare, un nuovo grattacielo che poi in realtà non è proprio un grattacielo, un grosso palazzo perché è abbastanza bassetto e tozzo ed effettivamente passando dalla stazione di Paddington c'è questo nuovo edificio di Renzo Piano che non sapevo neanche che fosse realizzato perché effettivamente ancora non è completo ma dall'esterno tutto l'involucro è già stato finito ma stanno ancora lavorando e quindi si ha un nuovo progetto fatto appunto dal nostro architetto italiano. E poi per esempio c'è la zona dell'Olympic Park che appunto è stata valorizzata insomma dal 2012 che ce ne sono state le Olimpiadi a Londra ma che quando io anni fa ero andato a visitare così passeggiando era ancora molto desertico anche se insomma c'era un prato, c'era spazi verdi che non disdegno assolutamente ma che invece a Londra stanno costruendo e già all'epoca stavano già iniziando degli importanti cantieri ed effettivamente adesso già una buona parte sono tutte conclusi e ci sono importanti edifici di Richard Rogers, quindi l'importante architetto amico anche di Renzo Piano che hanno fatto il Pompidou insieme tra parentesi e importanti gli edifici di Richard Rogers ma c'è anche un grattacielo chiamato il Manhattan Love Garden dello studio SOM che si scrive a Skidmore Owens & Merrill che è un importante studio di architettura americano per capirci quello che ha realizzato il Burshi Khalifa a Dubai che è il più alto grattacielo al mondo e quindi ci sono anche queste trasformazioni anche in questa parte della città. Per cambiare un altro quartiere che è Canary Wharf anche lì ci sono altri grattacieli nuovi altri interventi importanti ma uno per parlarvene di uno è il One Park Drive che è un grattacielo residenziale realizzato dal famoso studio svizzero Herzog de Meuron, curioso da vedere, onestamente non lo trovo molto bello forse però è sicuramente interessante e poi comunque fatto da architetti importanti. E per finire c'è un altro importantissimo intervento da 9 miliardi di sterline che non è ancora completamente finito perché vogliono ancora costruire come se non avessero costruito abbastanza e la ristrutturazione e poi costruzione di tutta la zona circostante del Battersea Power Station che era un'ex fabbrica che è stata ristrutturata in realtà smembrata all'interno ricostruita ma hanno lasciato l'involucro e il ricordo della fabbrica, si legge molto bene e più hanno costruito tutto intorno. In realtà in questo caso sono rimasto anche un po' deluso proprio perché hanno costruito veramente tanto però se vogliamo da un punto di vista architettonico le firme che ci sono già degli architetti. Abbiamo Wilkinson Hare come studio di architettura che si è occupato del restauro della riqualificazione della centrale, poi ci sono gli edifici di Foster, di Gary, c'è una piazza di Big, che sarebbe Jack Ingalls, il famoso architetto danese, per cui è un intervento architettonicamente da vedere ma che magari ne voglio approfondire meglio nella prossima puntata proprio perché comunque secondo me ce n'è da parlare per l'importanza dell'intervento ma anche per come è stato fatto e anche per i render che avevo visto e poi vedendo la realtà che magari è stata un po' diversa. Comunque concludendo non potrei continuare l'elenco ma sarebbe ancora forse noioso perché comunque non sono veramente tante le nuove architetture e che stanno ancora costruendo per cui io Londra è sempre una città in costruzione, sempre un cantiere continuo. Però ecco probabilmente anche interessante per quello e comunque come ho detto all'inizio se siete architetti o non siete architetti ma siete comunque appassionati dell'architettura contemporanea, un weekend a Londra dovete passare.